Siamo qui in Piazza Castello con un'esponente storica della Federazione Anarchica Italiana. Come schierate la Federazione Anarchica Italiana rispetto a questa guerra, a questo conflitto? Noi siamo a fianco dei disertori di tutte le guerre, come sempre. Siamo per il disfattismo rivoluzionario, lo sciopero generale, lo sciopero che inceppi i meccanismi di questa guerra. Inceppare i meccanismi di questa guerra significa anche liberarsi delle fabbriche d'armi, liberarsi degli eserciti, liberarsi delle frontiere. Questi sembrano obiettivi apparentemente utopistici. In realtà sono concretezza di fronte all'enorme portato di violenza rappresentata dalle guerre degli Stati, dalle guerre dei padroni, dalle guerre di chi ogni giorno ci sfrutta, ci affama, ci riduce miseria. La guerra in Ucraina uccide migliaia di persone, ma ne moriranno altrettanto per la carestia in Africa, ne moriranno altrettanto in questo paese, private dei servizi essenziali utilizzati per la spesa militare. E quindi questa giornata è una tappa di un percorso importante, ma il fatto che le piazze di tutta Italia si siano riempite di lavoratori e lavoratrici in sciopero è sicuramente un passo importante e incoraggiante. Grazie